Che cosa abbiamo fatto a Pesaro per quello che riguarda soprattutto i problemi dal punto di vista dell'energia? Ma sicuramente direi che la cosa più importante è che circa un mese e mezzo fa l'amministrazione comunale, il primo anno di Pesaro, il Consiglio Comunale, ha votato l'adesione al patto di sfuggi. Questo mi sembra un passo assolutamente importante perché fa sì che l'amministrazione da qui al 20 si è assunto un impegno molto forte nei confronti del risparmio energetico, nei confronti delle energie rinnovabili e nei confronti dell'abbattimento delle cilie. Rispetto a questi temi credo che Pesaro sia assolutamente una città virtuosa in quanto da poco abbiamo inaugurato un parcheggio fotovoltaico che interessa circa 25.000 metri quadrati del territorio che contribuisce ad abbattere per 1.800 con il latte l'anno di CO2 e l'altro aspetto importante credo che caratterizzi la nostra città sia quello delle piste ciclabili. Abbiamo raggiunto quasi 64 chilometri di piste ciclabili nella nostra città e il progetto complessivo prevede di arrivare a circa 200 chilometri. Questo mi sembra un impegno molto fermo, molto serio da parte dell'amministrazione che possa contribuire a migliorare l'ambiente e conseguentemente la salute dei nostri cittadini.